Usa via! Me lo posso prendere? No! Allora queste me le posso prendere? È tutto un giorno che ti cerco. E là te l'hai comprata? No. Il cinematogra! Il cinematogra! Un agente, tua moglie mi ha detto di portarti in mangiare. Dammi qua. Fai vinta di daremi ragione. Appena mi giro fai come ti pare. Toto! Ora unico pure un cassiere. Non devi andare più nemmeno dentro la cena. Hai capito? Appena! Eh? Ma fai tu! Uè! Ho pagato il biglietto. Devo vedere la pellicola. Tanti altri in paese lo sanno fare. L'operatore solo un preteno come a me lo poteva fare. Da via! Da via! Un giorno avrai altre cose da fare. Altre cose. Più importanti. Il nostro corso è un paese lo sanno fare. Argo! Il nostro corso è un paese lo sanno fare. Più importanti. In è il nostro corso è uno e in tutto. Più importanti. Tutto di tutto. E' un paese lo sanno fare.